Ciao, sono Alan di Garoni Immobiliare e oggi ti accompagno nella visita di questo appartamento in affitto. Siamo in zona Filanda, nel complesso Ex Apida e nello specifico ci troviamo in un ampio bilocale al piano terra completamente arredato, con ingresso anche indipendente dall'esterno e un ampio garage al piano seminterrato. Dalla zona giorno si accede direttamente a questa ampia loggia, su cui si affaccia anche la camera matrimoniale e alle mie spalle si trova un comodissimo ripostiglio dove sono alloggiate caldaia e lavatrice. Ah, ovviamente c'è anche un cancellino pedonale per poter accedere direttamente dall'esterno a questa ampia zona. Da questo disimpegno accediamo al bagno Qui invece troviamo la camera matrimoniale A livello impiantistico l'appartamento ha il riscaldamento indipendente ed è dotato di aria condizionata sia nella zona giorno che nella camera da letto. Ha, oltre alla lavatrice, anche la lavastoviglie. Come hai potuto vedere, l'arredamento è completamente nuovo e quest'appartamento non è ancora stato abitato Perciò, se sei interessato ad essere il primo ad abitare qui dentro, contattaci Ci vediamo in visita!